PARTY 2 WE DIE L'ultimo 3 2 1 Muoviti puttana Cristo Simona Cristo Ma allora Vabbè è uguale Non è riuscita non fa niente Lei è la mia amica Roni No Lesbiche Ma no Oggi siamo nella pizza challenge Cioè Noi qua abbiamo la pizza Aiuto Che schifo E che schifo Qui abbiamo la pizza E qua abbiamo i bigliettini Uno alla volta dobbiamo pescare questi bigliettini Che ci sono scritti dei ingredienti random A cazzo di cane come Mannarino E mettono proprio la pizza Quella E Quindi iniziamo E no qua ce ne manca uno non so perché è buono lo so Quindi adesso iniziamo subito Inizia prima l'invitato perché cioè si Mandarino Mandarino Buona la pizza con il mandarino No è caduto Che fai la pizza con la cipolla Ma io sono mai Che schifo Si così Aspetta E' buono il mandarino Nooo Ok No che schifo E' buonissima la cipolla E' buonissima la cipolla Mi sentito Che schifo Che odore sua eh Ma ce l'hai messa? No Ti ammazzo eh Non fosse solamente così AAAAAA Guarda 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 Prendi il coltello per uccirlo Non sporcare Buon appetito Ok ok Ma con calma Mi raccomando eh Oh meglio Ma è finito Ma è finito Va bene ok Perfetto Ce l'ho messo a toccamento Sottiletta Si Ce l'ho messo a te No Guarda No Ma me le pareva un foglio di carta Ma sei una scema Che figliola Ma Cioè il colore è quello Sottiletta La tarda No Ma te ti piace AAAAAA Mi sono lavato i capelli Tonno Tonno Oh che schifo mandarine e tonno Maionese 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 Se si faccia vedere Dove prendo il tonno Che hai preso La maionese Maionese Ma maionese sulla picca Salute Ma c'è la acquetta Madonna Ma non c'è la acquetta Ma non c'è la acquetta Ma non c'è la acquetta Ma fare i cibo per gatti Sì Sei un cazzo Invece lei ha preso la maionese 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 prego Io voglio il guster La mia guster Sei un deficiente La vai a fare meno casino No No Non mi piace la maionese 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 Cipolla Maionese Maionese Cipolla Tonno Cipolla Maionese Tonno mangia questo è fatto in casa da un ristorante sono da lì un po di tempo che mi sa che sono un po sciolti vai prego prego madame e ciò che ho comprato la fontana di cioccolata cioccolato torno al margarino insieme alla tigia siamo due morti sono circondata da due che hanno l'ebola aiutatemi si ebola mamma metti lo metti lo metti lo che rispetto a dio no che preso per un gen intero e poi è uno che manco picca poco perché io dovete sapere che dovete sapere che questo cioè si chiama no scherzo non si chiamano perché non me lo ricordo però io attivo uno del vero non ce l'ha l'odore uno dei peperoncini più piccante il mondo anche l'anche anzi più piccanti questo non è quindi potrei anche mettere un bel po il piccante te ne metto un pezzettino perché se tu ti mangi tutto no il piccante mi da un fastidio te metto questo qui e te non lo devi mangiare perché picca eh mangio tutto e lo tolgo e poi mangio il che resto si guarda che ti ha alza pure tutta la pizza tipo quel piccante pezzettino lì ma che cosa è WUSTEL ma il WUSTEL sulla pizza dove sta bene ma scusa si ma si ma no ma no sorry la cipolla la cipolla il WUSTEL anche a te adesso ci prende i gnafi col WUSTEL ye 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 ma come lo tagli e questo e questo ah scusami no vai via scusami tesoro va bene non metti 13 di ingredienti invece che 12 l'ultimo che rimane ne metteremo su tutti mmm vai possiamo prendere la pizza sulla pizza wow armellata ah che ma che si pesche ma che cos'è questa cosa è la tua morte eccola la salsa eccola eccola è la mia loro mongeli salsa di peperoncino wow che bello amore mio daniela daniela guarda è a meno un'ora che piace ma tu sei facile l'hai avuta giù lì shhhh daniela non lo sa che si che lo so adesso si se te mangi anche io ho preso l'arnas perchè ci sta bene che WUSTEL è con la mazzottiletta e con buona ahhh vaffanculo ci sono rimaste le arachide adesso le arachide dobbiamo metterle perfetto buona adesso ok le noccioline le noccioline adesso dobbiamo metterle tutti pfff adesso questa meravigliosa pizza ahhh merda buono mi sono scordata di mettere accendere il forno mi sono scordata di mettere accendere il forno allora il forno si accende così prendi fai ahhh così no sei una cogliona esco sgnappi sul miuro yeah 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 che cazzo fai sei il forno di accendi grazie siamo tornati con le pizze pizze va bene allora queste sono le mie pizze capito non tutte io allora ci sto mia ahhh mi pare un ragno e il bagno di daniela allora adesso ce ne mangeremo una fetta però pezzatino una fetta pezzatino io passo ma tu mangi senti che puzza di tonno profumo che schifo il mandarino cotto due ok vero due ma ma che cazzo fai ma che schifo oddio nana luisu buono tanto eh un brito non vieni non picco manco guarda mi prego mangio io con lo continui a mangiare la pizza e poi le mie si applicano pure lo so è buono eh grazie mangio il pezzo del cioccolato non mi ricorda un'erba buona oh ahah ahah Pucca la scotta, è buona, ma non è buona, lo so, non lo fa, scotta tanto, troppo dolce, troppo per me, troppa cipolla, in realtà non mi aspettava che non si cavate più, che schifo, quella guarda, tu guarda che schifo, la mia è buonissima, la mia è buonissima, la mia pizza eccola, è morta, non c'è più buona, non so, è un topino, La mia pizza era il cioccolato, faceva cadare, puttani, no, mi ripiudo, mi è volata una cipolla sui capelli, idioti, allora per questo video tutto sarà la prima sfida, la pizza challenge, che è finita in buono, cioè, tranne la sua pizza, la nostra pizza, erano buonissime, cioè, proprio, la mia pizza, dove è finita? Ed ecco, la mia, quindi, è buona la pizza, se volete ancora Silvia, scrivete, il mio telefono, il mio hashtag, il mio telefono, il mio telefono, sì, perché, va bene, così, hashtag, cazzo, E quindi, seguiteci su tutti i social che trovate in descrizione, che sono, tweet, instagram, facebook, telegram, e basta, e basta, e lasciate un mi piace se vi è piaciuto, lasciate un mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, Ciao a tutti, ciao a tutti i ricordi, 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 basta mangiare pizza, basta, che schifo, che schifo, ciao